Marco, svegliati, è tardi. Marco, entrai, devi andare al lavoro, ti sta venendo felice a prendere. No papà, oggi non ci vado a lavorare. Tu devi andare a lavorare, capito, sì o no? Papà, oggi non posso. Come oggi non ci stai lavorando? Lino che mi sta aspettando a basso. Ma a me non mi interessa che ti stai aspettando, tu devi andare a lavorare, capito? Papà, oggi non posso, Lino sta già giù, me ne devo andare ora. Marco, guarda che se tu esci da quella porta, tu non ci rientri più. Mi sta aspettando lì. Papà, 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 non ti farei più. Ti dispiace, papà, papà, non ti farei più, papà, papà, papà. Oh, a me non ti stai aspettando, finalmente. Tenevo su, stavo dormendo. Tenevo su? Io l'ho fatto tante. Eh, va bene. Andiamo. Quel lavoro che mi hai detto. Dio? Mi hai portato una cosa, dopo una ragazza. Io non voglio stare a mezzina, sì, eh. Ok? Che è stato solo per me. Buona ragazza. Buona ragazza. Buona ragazza. Buona ragazza. Buona ragazza. Ciao, Carmen. Ciao. Come stai a nenne a scuola? Eh, bene, la maestra è rimasta contenta. Sono dei grandi soddisfazioni. Eh, ma la maestra, la maestra diceva che è cattiva. No, un pochettino. Non ti preoccupare. Cosa di niente. Guardi, facendo il bravo. Non ti preoccupa, mamma. Non ti preoccupa, mamma. Non ti preoccupa, mamma. Andiamo. Ciao, papà. Ciao, papà. Eh, papà. E' tra l'acquiglia. Buona ragazza. Buona ragazza. Ciao. Maurizio. Sono Rosario. Vieni un attimo qua. Vieni a parlare. Aspetta, sta presto. Buongiorno. I ragazzi sono arrivati. Palli bene. Fate. Palla predo. Aiutaci. Buongiorno. 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 A jonina'. Glorii nei ragazzi突zz! Cosa di voi, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno, torna sicuro, sto qui normalmente. Sto cercando? Ciao. Che succede? Maurizio, sto preoccupato. Diretore. Stamattina di fatto discusso con il figlio, e ci si accopo a casa. Sto cercando e non rispondo al telefono. Chiamo al telefono e non lo rispondo. Ancora da torna a casa. Sto cercando questa misaria da andata. E' serio? Sto cercando di andare a casa. Sto cercando di andare a casa. Sto cercando di andare a casa. Ma che accompagnarsi? Non ci conosciamo tanto. Perché non mi metti su? E' che cosa faccio? Che posso fare? Dici a te. Sto cercando di andare a casa. Sto cercando di andare a casa. Carmi. Eccoci. Buonanotte. Ero di là che parlavo con la mia amica. Fanno poche case da me. Va bene. Andiamo. Don Gennaro. Si va tu? Ma noi qua è un'ora che stiamo aspettando la roba, ma non si è presentato nessuno. Che dobbiamo fare? Ma sicuro? A me parla di buono ragione. Va bene, ora faccio cercare. Ok, Don Gennaro. Ciao, Dodo. Ciao. Scusi, Nino. Ma posso sapere una cosa? Mi è passato due euro. Ma la roba quando ci ha portato? Scusi, Nino. Ma tu devi dire che veramente ci buttiamo la roba qui. Ma sei passato? Ma che è già passato? La roba ormai è nostra. Ma quello non si scherzi. Questo c'è la cira. Ma che è passato? Vieni a prendere il dragone e ci fanno il cappotto. Ma ecco ti. La roba c'è un po' di minuccia. E' questa. La faccio accattare. Tu mi hai messo in mezzo a questo burdello. Hai capito? Stai con l'ansia. E' più gioco e' più. E poi mi hanno fatto messa a me. Ristruzzo. Un giorno è stato capire una cosa per niente. La roba l'anima è nascosta. E' molto un problema. E' nato capito niente. E' più gioco. Oh. E' più gioco. Mi piace il Rast che ti trarre. Ma fa, fa, fa. E' più gioco, lo puoi. E' più gioco. E' più gioco. E' più gioco. E' più gioco. Grazie.